Le conseguenze della crisi degli ultimi anni non hanno risparmiato i liberi professionisti, che in Toscana sono 300.000, il 10% degli occupati totali e del cui futuro si è discusso nel convegno le professioni intellettuali in Toscana, che si è svolto a Firenze. La Toscana è stata la prima regione nel 2008 a dotarsi di una legge e di una commissione per le libere professioni e poi a estendere le risorse europee alle professioni intellettuali, come ha ricordato il presidente della regione Toscana, che ha anche annunciato misure a sostegno dei professionisti che mostrano più dinamicità. Medici, dentisti e infermieri, 54.000 in tutto, restano la fetta più ampia di professionisti, seguiti da ingegneri, avvocati e architetti e tanti sono i giovani che hanno uno studio professionale, così come aumenta il numero di chi si iscrive a un ordine, una crescita che però ha più facce. È un effetto paracadute della mancata occupazione del mondo del lavoro, quindi il giovane che non trova spazi in altri ambiti, molto spesso l'ultimo miglio lo trova facendo, aprendo una partita IVA e facendo un'attività di professione intellettuale. Da qui le nuove misure messe in campo dalla regione, come i praticantati retribuiti, gli incentivi per le imprese, i voucher formativi estesi anche agli over 40 con risorse per mezzo milione di euro. C'è un fondo di rotazione per i professionisti che a questo punto inizialmente aveva degli interessi per chi vi accedeva, adesso la regione si è assunta non solo le garanzie sul prestito ma anche la copertura degli interessi. Abbiamo dei voucher per la formazione dei professionisti che sono nell'ordine dai 200 ai 500 euro, ma per andare a fare master all'estero o comunque un master di tipo annuale arrivano fino a 3.000 euro. Di recente è stato anche creato un osservatorio dell'IRPET con compito di monitoraggio delle professioni in Toscana.